Fiat Panda Van, due posti autocarro, 1200, attenzione GPL, immatricolata nel 2017 a settembre, ha compiuto poco più di un anno, ha percorso solo 18.000 km, è fatturabile con IVA esposta, si scarica tutto, IVA e ammortamento al 100%. Condizioni pari al nuovo, ed equipaggiamento di tutto rispetto, a parte vetri elettrici, chiusura centralizzata, abbiamo l'impianto stereo, con il telefono bluetooth, il suo supporto, la presa usb, naturalmente l'aria condizionata, gli antinebbia, il servo sterzo con tasto city. Con questa vettura potete entrare ovunque in tutte le città e farvi beffa dei sindaci e degli amministratori. Il chilometraggio è certificato, pesi, misure e portata li trovate sul sito lenticar.it Potete comprarla anche in leasing e se avete una permuta la ritiriamo. Ora alzate il telefono e chiedetici tutte le informazioni che desiderate. Grazie per l'attenzione, ciao!